Come vedete con il grafico che ha spiegato prima Stefano parla di un sentiment, diciamo una mappa del sentiment dell'andamento nella filiera, lo stessa domanda viene fatto durante i webinar sul tema di una previsione del prezzo nel mese futuro. Noi come ho già detto non crediamo di poter prevedere i prezzi, anzi non lo facciamo proprio perché sappiamo benissimo che tutte le previsioni sono sempre sbagliate, anche quelle fatte da organizzazioni molto più grosse delle nostre, però i rispondenti che sono sempre molti ci hanno dato, abbiamo messo insieme i dati delle risposte ricevute durante questi webinar questo anno e vedete che comunque è stato un anno sicuramente con un sentiment relativamente negativo in alcune parti, soprattutto febbraio-marzo di quest'anno, soprattutto per il rottame il tondo ma anche per i coils c'è stata una ripresa del sentiment nel secondo trimestre per poi ritrovarci oggi di nuovo con un sentiment relativamente negativo. Ora la domanda è se realmente il prezzo ha seguito questo trend e soprattutto quali sono i segnali per capire i prossimi mesi. Io ho voluto provare a mettere insieme l'ultimo sondaggio che abbiamo fatto il 10 settembre nell'ultimo webinar che abbiamo fatto e vi faccio vedere quali sono state le risposte e che cosa è successo al prezzo. Il 10 settembre più della metà dei rispondenti e sono un numero abbastanza importante perché chi di voi lo sa i webinar sono molto seguiti, pensava che il prezzo del rottame sarebbe sceso 10-25 euro. Io ho messo il grafico di settembre del prezzo Siderweb del rottame e 40 in questo caso poi si può fare con altri. Vedete che è vero che dalla prima alla seconda settimana tra il 3 settembre e il 10 settembre c'è stato un calo, in realtà questo calo poi si è molto affievolito tant'è che questo è il prezzo che esce oggi su Siderweb relativo a martedì, vedete che addirittura c'è una stabilizzazione, c'è un euro in più sul prezzo, quindi in realtà la previsione era più negativa di quello che in realtà il mercato è stato, sappiamo cos'è successo in Turchia c'è stata chiaramente una stabilizzazione, quindi in questo caso vediamo una previsione più negativa di quello che è stato. Se andiamo a vedere però invece il tondo per cemento armato, la situazione è simile, di nuovo circa la metà dei rispondenti avevano chiaramente un sentimento negativo sul prezzo, andiamo a vedere il prezzo e in realtà circa per settembre c'è una stabilità di prezzo, qua vedete questo salto fra il 3 settembre e il 10 settembre, ma si è andato a vedere a livello grafico, volevamo accentuare la discesa ma parliamo di 2 euro, quindi chiaramente una stabilità del prezzo, quindi un sentiment più negativo di quello che era in realtà il mercato, che semplicemente è riuscito a performare in modo diverso, a dimostrazione anche qua, lo ripeto, che anche i nostri outlook in realtà come alcuni dei vostri non sono corretti, però è interessante notare questa curva. E l'ultimo è quello su i coils a caldo, che invece centra, anzi centra più o meno l'obiettivo del sentiment, ma in questo caso addirittura al 49%, quindi meno di quelli sugli altri prezzi pensavano a discesare del 10-25 euro, la discesa effettivamente è stata di 25 euro più o meno, vedete qua il trend, direi che sono dei sondaggi da prendere con le pinze ovviamente, però interessanti per capire cosa pensa il mercato. Perché dimostra una certa accuratezza, forse c'è stato un avampeccato un po' di ottimismo sul tondo che invece è stato più stabile di quello che ci si aspettava e conferma anche quanto abbiamo visto nella slide precedente sulla poca volatilità del tondo rispetto a quella dei coils. Grazie a tutti.